Il tempo libero Come passare le giornate No, poi uno si meraviglia Se a un certo punto, vero? Insomma, anche No, dico, così Le giornate passavano Ecco, noi vogliamo farvi vedere Un attimo Adam e Eva Presi così dalla loro intimità Un attimo solo Un filmatino, una cosuccia brevissima Posso stacco? Adamo, ma non andare in giro così Sei disgustoso Mettiti almeno una foglia Grazie 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 a tutti